Grazie a chi è intervenuto prima di me, ovviamente. Secondo me, appunto, io riprendo anche l'introduzione che è stata fatta anche da chi mi ha preceduto, cioè l'importanza di trovarci qui oggi, di comunque aver deciso di costruire insieme questo festival, di comunque riprenderci uno spazio di socialità, uno spazio in cui discutere insieme è una cosa fondamentale, perché poi un anno e mezzo di pandemia magari ci ha anche dato l'illusione che determinate cose possano correre anche sul filo del web, sul filo appunto dei social, mentre in realtà poi quando si parla di lotte, quando si parla di vertenze, insomma si parla comunque di corpi vivi e appunto, come citava adesso Lorenzo, fare le lotte, fare le vertenze non è soltanto scrivere su Facebook piuttosto che connettersi a una call, ma anche poi mettersi in prima persona e mettere anche, come dire, a disposizione del proprio corpo per le lotte, spesso sapendo che questa cosa qui comporta dei rischi per le libertà, o come nel caso di Adil anche la propria, mettere a repentaglio la propria stessa vita. Quindi in qualche modo riprenderci questo spazio di discussione, rispenderci degli spazi fisici, è una cosa importante, è un esercizio che è necessario ricominciare a fare anche come meccanismo di salute nostra mentale, di capire anche poi dove vanno investite le nostre energie. Ecco, io riprendo velocemente quello che diceva Lorenzo all'inizio, appunto come sia in voga questa narrazione che appunto vede nella finanza come un mostro, un moloch che però è in qualche modo, come dire, distante dalle nostre vite, è qualcosa di inarrivabile e di distante, mentre in realtà questa cosa qui non è assolutamente vera, perché poi dopo gli effetti della finanza, della finanzializzazione, sono cose che ci toccano tutti i giorni. Ed è questo anche il senso con il quale noi come ADL Cobas abbiamo deciso di aderire alla piattaforma We Are Tide, che poi di cui dopo parlerà in maniera più approfondita Anna Clara, appunto cercando di mettere a nudo anche quelle che sono gli aspetti attraverso i quali poi la finanza ha un intervento di estrazione di valore dalle nostre vite e dal nostro tempo. Io faccio alcuni esempi, prima Lorenzo diceva giustamente che i grandi appunto industriali di fatto loro decidono di dirigere i soldi e le loro risorse verso le attività che producono maggior profitto, ovvero chiaramente quando si parla poi di mondo del lavoro, le attività dove c'è più profitto tendenzialmente sono quelle laddove c'è un maggior grado di sfruttamento. Io faccio così, do alcune cifre, dagli anni 70 a oggi gli investimenti finanziari hanno quasi superato gli investimenti tecnici delle grandi aziende, cioè si è passato da un investimento del 7% sulla finanza da parte delle grandi aziende a un investimento del 28% del 2016, questo giusto per far capire anche come appunto sia una determinata scelta di investire su quello che li fa rendere di più e quello che fa rendere di più per loro spesso e volentieri, anzi quasi sempre, è quello che poi produce maggiore povertà per noi. Questo maggiore investimento sulla finanza, appunto sugli aspetti finanziari, sui mercati finanziari e la riduzione degli investimenti su quelli che sono gli aspetti tecnici, ovviamente su cosa si ripercuote? Si ripercuote su una riduzione dei volumi occupazionali che si è ridotto quasi del 45% dagli anni 70 a oggi, cioè quindi con un identico investimento però cosa che genera una maggiore resa e contestualmente anche una minore occupazione, quindi un aumento poi della povertà e allo stesso modo anche una compressione di quello che è il valore delle retribuzioni, cioè si è passato da un'incidenza rispetto al PIL del 66% nel 1975 a un'incidenza del 51% dei primi anni 2000. Faccio un piccolo inciso però che questa cosa qui ovviamente non riguarda tutti gli stipendi, riguarda gli stipendi degli operai principalmente o comunque diciamo della massa di lavoratori, diciamo quelli di basso, non è neanche di basso profilo diciamo, però quelli non i top manager perché invece gli stipendi dei top manager sono aumentati costantemente. Nel 2015 il reddito di guadagno di Marchionne, pace all'anima sua, è stato di 55 milioni, giusto per dare un'idea e spesso questi stipendi, questi stipendi dei top manager sono degli stipendi basati su dei benefit a progetto, per cui si crea quel paradosso per cui se il progetto diventa l'ottimizzazione loro guadagnano tanti più soldi quante più persone mettono sull'astrico, giusto anche questo per far capire come la guerra che viene condotta dalla finanza o comunque poi da queste grandi aziende è una guerra che è una guerra di classe, però è una guerra di classe che è condotta non dal basso verso l'alto ma piuttosto dall'alto verso il basso. Ecco, ovviamente quando si parla di finanziarizzazione, una delle altre cose che poi è stata anche citata prima, è anche non è soltanto decidere dove vengono investiti i soldi ma anche un processo di liberalizzazione che poi di fatto determina da un lato l'aumento dell'impatto sociale e ambientale delle riforme e dall'altra parte anche però rende possibile l'aumento dei profitti per queste grandi aziende. Ovviamente in questo senso il fatto che abbiamo come Presidente del Consiglio Draghi è un chiaro segnale di quale sia l'indirizzo che si è deciso di dare a questa cosiddetta ripartenza. Io faccio provare a fare alcuni esempi, chiaro nel PNRR, veniva citato prima, l'obiettivo del PNRR, anche dichiarato palesemente, è quello di attrezzare lo Stato per una più efficiente capacità di favorire la competitività dei mercati. Questo qui è proprio esplicitato nell'ultimo capitolo e ci parla esattamente di questa cosa, cioè di ridurre, utilizzare lo Stato per ridurre l'intervento dello Stato all'interno dei mercati. Non è ovviamente l'unica cosa, questa cosa qui è una cosa che ha una storia molto lunga, insomma noi l'abbiamo visto con Lorenzo, con tutte le inchieste che sono state fatte all'interno dei magazzini Amazon, Amazon è una delle società che fa il più alto utilizzo del MOG, cioè che sono, Lorenzo, monte ore garantito, bravissimo, è il mio suggeritore, il monte ore garantito, ovvero cosa vuol dire? Sono dei contratti per cui vengono garantite un limite, un numero molto basso di ore, che mi pare siano 14, 24, ok, allora sono, ma Lorenzo sappia più cose di me su Amazon, non c'è poco da fare, ho 16 o 24, esatto, poi abbiamo fatto le scuole fin da quando eravamo piccoli insieme per cui viviamo in simbiosi su questo. Questo monte ore garantito molto basso, ovviamente cosa vuol dire questa cosa? Che io ho uno stipendio molto basso, per potermi garantire uno stipendio più alto devo essere sempre a disposizione, in particolare con Amazon questo monte ore garantito funziona in questo modo, che loro nel momento in cui hanno bisogno di turni extra, loro mandano appunto questa indicazione di necessità, di appunto di questa loro necessità e il più veloce a dare l'adesione al poter fare dei turni in più, viene non solo a il diritto di lavorare per quel giorno, ma anche poi scala una sorta di classifica perversa per cui poi è più facile che vieni chiamato a lavorare, per cui di fatto si crea un sistema di autosfruttamento pazzesco. Dall'altra parte, sempre parlando del PNRR, abbiamo visto la totale deregulation sugli appalti che per chi come noi di ADL ha lottato tanti anni all'interno della logistica sa bene cosa vuol dire togliere qualsiasi forma di tutela alla normativa sugli appalti, cioè contratti truffa, aziende che possono fare quello che vogliono, subappalti dati a cani e porci, insomma un meccanismo che comunque non farà altro che produrre altra povertà e altro sfruttamento. Un altro aspetto che veniva citato prima è sicuramente quello delle privatizzazioni che hanno investito un grandissimo spettro di cose, insomma dai servizi, dalle ferrovie al trasporto pubblico, recentemente cosa che tra l'altro anche durante la pandemia ha avuto un impatto pazzesco, gli ospedali, quindi comunque la sanità, le scuole e questa cosa qui viene fatta tra l'altro attraverso l'utilizzo di risorse pubbliche, per cui risorse pubbliche che vengono utilizzate ancora di più per andare poi ad arricchire dei privati. Ecco, e mi avvio alla conclusione, ovviamente tutta questa cosa, tutta questa lotta, questa guerra che viene condotta dall'altro verso il basso necessita di alcuni elementi, di alcuni strumenti, da una parte c'è sicuramente lo strumento di cercare di normalizzare, cioè di dare un aspetto di normalizzazione alle situazioni, ovviamente questa cosa qui è stata fatta con l'aiuto dei media mainstream, con questa continua campagna di pubblicizzazione di Draghi, che veniva appunto campagna mediatica, che vedeva Draghi come un demiurgo, una persona che è un salvatore, il governo dei migliori, tutte queste cazzate che ci siamo sentiti dire negli ultimi mesi. E dall'altra parte ovviamente anche attraverso la repressione di tutte quelle forme di lotta, siano esse ambientali, sociali, per i beni comuni, le lotte operaie eccetera eccetera, che hanno la caratteristica di essere delle lotte non compatibili, perché guarda caso tutte quelle forme comunque di lotta in qualche forma compatibili trovano larghissimo spazio e larghissimo consenso all'interno dei nostri governi, delle nostre città, ma anche a livelli più alti, mentre invece quelle esperienze non compatibili sono quelle che vengono continuamente represse. L'abbiamo visto insomma con i compagni di Rise Up con i quali che sono andati a occupare la sede centrale di Enel, l'abbiamo visto con tutte le lotte operaie di cui tra l'altro noi come ADL Cobas a cui abbiamo partecipato, in cui vengono utilizzati degli strumenti che sono della nostra lotta, come ad esempio quello dell'internalizzazione, faccio l'esempio più paradigmatico di questa cosa, è la lotta all'interno di FedEx in cui una nostra richiesta, una nostra rivendicazione che era quella dell'eliminazione degli appalti a favore dell'internalizzazione appunto all'interno di FedEx è stata utilizzata come strumento per riuscire a rompere o provare a rompere una forma di autoorganizzazione sindacale che era quella di ADL Cobas, che è quella grazie a Dio di ADL Cobas e di Sicobas e favorire invece sindacati confederali come la CGL che invece hanno sempre lottato contro gli operai e a favore dell'azienda. E poi lo vediamo ovviamente i nostri compagni della valle che sono martoriati da provvedimenti di limitazione della libertà continuamente in maniera con una ferocia impressionante per una lotta assolutamente legittima, giusta e che soprattutto è una lotta che trova il suo radicamento in un vero interesse del territorio, una vera lotta per l'autodeterminazione territoriale. Ecco, in questo senso, anche per rispondere a quello che diceva prima Andrea, cioè cos'è che dobbiamo aspettarci noi, cos'è che dobbiamo chiedere noi al G20? Ecco, io credo che a quelli i venti noi non abbiamo niente da chiedergli, perché a parte il fatto che appunto tra l'altro quei venti lì di fatto spesso e volentieri sono di burattini, non è che non hanno neanche poi un vero potere gizionale. La vera sfida del G20, di questo primo G20 di Venezia, che poi dopo sarà un trampolino verso tante altre iniziative, verso l'inverno, verso l'autunno, verso l'estate, dalla pre-cop di Milano fino ad arrivare al G20 conclusivo di Roma, è quella di riuscire a ricostruire un tessuto sociale che abbia la capacità di opporsi, che abbia anche la capacità di riprendere in mano determinati termini, determinati anche piani di vertenza, come quello del tempo che veniva indicato prima, come quello appunto della autodeterminazione, dell'auto-organizzazione e ovviamente fare questa cosa cercando di rimettere anche al centro una pratica di conflitto vero che possa anche creare un problema a chi poi le leggi in qualche modo deve anche riuscire ad applicarle. Grazie.